Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qui nel disordine della mia libreria, dal sottoscritto Metal Mike, ottimo massimo, metallaro per grazia di Dio e volontà della nazione. Allora, se la mia faccia vi fa prefigurare uno dei miei famosi video perculatorio ironici, beh, ci avete preso perché quest'oggi vi parlo di una delle idee più deliranti, più assurde, più clamorosamente fenomenali che sia mai stata partorita in ambito aeronautico. E ad averla sono stata, tanto per cambiare, sa va sans dire, come dicono i nostri vicini mangiabaguette, sa va sans dire si tratta di un'idea tedesca, la superiore tecnologia teutonica e le sue grandi leggendarie trovate. E questa qui è veramente superiore, secondo me, al cotolengo flugzoig, ovvero sia il Bachem BA 139 Natter, ecco, il Bachem Natter che era già un'idea da cotolengo, questa idea che sto per illustrarvi è veramente oltre il cotolengo, chiedendo scusa al cotolengo stesso. Ok, allora, signori, preparatevi, da questo numero di aerei nella storia, il numero 80 dell'ottobre 2011, tiriamo fuori un articolo di Giorgio Tanzi che ci parla del GO 345, ovvero sia il Punkt Land Flugzeug, aeroplano con atterraggio sul punto. Questa è la copertina del fascicolo originale tedesco. Cioè l'idea di far atterrare di punta sul muso un cosiddetto aliante d'assalto contenente paracadutisti. Eh, praticamente l'idea che ebbero i tedeschi era quella di far atterrare questo aliante d'assalto, ovvero sia il DO 345, questo è un tre viste, eccolo qua, praticamente era quello di farlo decollare, questa è la versione con i pulsogetti come quelli delle V1, dicevo, l'idea era quello di farlo atterrare, arrivare in prossimità al bersaglio, farlo picchiare verticalmente al suolo e di arrestarne la caduta tramite paracadute e retrorazzi installati sul muso. Cioè, se vi sembra un'idiozia non vi preoccupate, lo è! Ma tant'è, sapete bene che la ricerca bellica tedesca è sempre stata decisamente qualcosa di poco razionale durante la Seconda Guerra Mondiale. erano talmente tanto avanti da essere presbiti, guardavano talmente tanto avanti da essere presbiti e qualche volta guardavano talmente tanto avanti da non capire di essere cretini. Ma sentiamo un po' che cosa ci dice Giorgio Tanzi a proposito di questa trovata, di questa genialata dell'alliante d'assalto che atterrava di punta dopo una picchiata verticale. Vabbè, sentiamo un po' che cosa ci dice. Ah, praticamente, scusate, lo schema di volo riportato da Tanzi nel suo articolo era questo qua. Poi ve lo farò vedere meglio. Allora, diceva praticamente questo qua. Allora, il progetto del Punkt Land Flugzeug, aeroplano per l'atterraggio sul punto, rimase irrealizzato e cadde nell'oblio, perché però merita un minimo di attenzione per la sua arditezza sconfinante nella temerarietà, talmente tanto temerario da essere idiota, ma vabbè, lasciamo stare, nonché per l'ingegnosità e l'originalità delle soluzioni previste. Il progetto, i cui elaborati grafici indicano, controllato il 3 luglio 1944, era basato sul Gota 345 e fu sviluppato congiuntamente dalla Gota Air Wagon Fabric e dal DFS, l'Istituto tedesco per la ricerca sul volo a vela di Darmstadt, con la collaborazione dell'Istituto Sperimentale tedesco per l'aviazione, il DWL, di Berlino Adlershof, nel cui tunnel aerodinamico, nella cui galleria del vento, furono effettuate le prove sui modellini. Lo scopo non era l'elaborazione di procedure per affrontare situazioni d'emergenza, bensì il superamento dei limiti operativi dell'alliante nell'impiego militare, soprattutto in operazioni di aviosbarco e infiltrazione di commandos, derivanti dal suo comportamento in atterraggio, caratterizzato da un ridotto angolo di planata e da una lunga corsa al suolo. Per ovviare a questi inconvenienti che ne limitavano molto la flessibilità e ne incrementavano anche la vulnerabilità in quelle cruciali fasi, si era fatto ricorso a vari sistemi con risultati mai risolutivi. Da quello empirico di avvolgere filo spinato attorno ai pattini d'atterraggio ad altri tecnologicamente più raffinati, sono tedeschi, come paracadute freno e batterie di razzi frenanti. E neanche l'alliante ad ala rotante FA225, praticamente un DFS230 con l'ala sostituita da un rotore, aveva avuto il successo sperato. Parliamo di questo qui, praticamente un autogiro rimorchiato. L'idea poteva non essere malvagia ma in realtà abortì malamente. praticamente lo schema che è stato reperito era questo, ok? Questo era lo schema della missione base. Decollo, cabrata, picchiata verticale, azionamento del paracadute di caduta e dei retrorazzi con l'aeroplano che si tuffa al suolo di testa. Credo che la mia faccia la dica lunga, ma continuiamo signori? Ebbene sì, così continuiamo, facciamoci di male, come dicono dalle parti di Firenze. Allora, dicevo, il decollo poteva essere effettuato al traino di un rimorchiatore che potevano essere uno Junkers 52 o uno Enkel 111, oppure utilizzando l'impianto propulsivo ausiliario che era composto da due pulsoreattori Argus da 335 kg di spinta ciascuno. Raggiunta e, ripeto, è questa la soluzione con i propulsori, con i pulsoreattori ausiliari era questa qua, ok? Allora, praticamente l'aliante o motoaliante secondo i moderni concetti di descrizione raggiungeva la velocità di 300 km orari. Giunto in prossimità dell'obiettivo, il pilota sganciava i pulsoreattori in modo da evitare il rischio di esplosioni e iniziava un'affondata, estraendo i freni aerodinamici al fine di limitare la velocità, che al momento di iniziare la picchiata verticale e di estrarre il paracadute freno a circa mille metri di quota, era di 260 km orari e si riduceva a 90 km orari, cioè 25 metri al secondo, in seguito all'apertura del paracadute alla quota di circa 600 metri. Ecco qua lo schema originale tedesco. Contemporaneamente avveniva l'estrazione del pattino ad atterraggio e il rilascio di due pesi applicati agli estremi di due cavi lunghi 10 metri, mediante i quali essi per gravità esercitavano sugli interruttori elettrici d'accensione dei due razzi frenanti posti alla radice delle semiali una trazione sufficiente a inibirne l'attivazione. Quando la quota corrispondeva alla lunghezza dei cavi i pesi si adagiavano al suolo, conseguentemente veniva meno la trazione sugli interruttori che accendevano i razzi a propellente solido, la cui spinta era sufficiente ad annullare la velocità di caduta con tolleranza di 5 metri al secondo. L'alliante toccava terra verticalmente col muso, dove era posto un ammortizzatore anulare con la funzione di assorbimento dell'energia cinetica residua. Vabbè, che vi devo dire? Gli assi di spinta dei due razzi erano disposti in modo tale da imprimergli un movimento di rotazione attorno all'asse trasversale portandolo ad adagiarsi orizzontalmente sul pattino ventrale. In pratica l'aeroplano si schiantava così e poi dopo si sarebbe dovuto adagiare a questa maniera sul pattino ventrale. Veniva rallentato dal paracadute e dai retrorazzi, la struttura ammortizzante anteriore collassava e l'aeroplano si adagiava sul pattino ventrale. Va bene, ma c'erano anche delle situazioni di emergenza previste perché erano considerate, si era pensato, al malfunzionamento dei sistemi di frenaggio, la mancata apertura del paracadute e la mancata fuoriuscita dei pesi con i relativi cavi che sarebbero state riscontrate alla quota di 600 metri, sufficiente per consentire al pilota di riprendere il controllo dell'alliante, rimetterlo in asselto di volo livellato e cercare uno spazio adatto per un atterraggio convenzionale sul pattino ventrale. O se ciò non fosse stato possibile, tentare un atterraggio di fortuna. Una criticità ben maggiore presentava il caso rappresentato da un secondo schema grafico, ovvero sia questo, in cui a 10 metri dal suolo era previsto che il dispositivo di accensione dei razzi non funzionasse. Frenato solo dal paracadute, l'alliante avrebbe continuato a scendere alla velocità di 25 metri al secondo, senza che il pilota potesse in alcun modo intervenire, e quattro decimi di secondo dopo avrebbe impattato col suolo. La prua era strutturata in modo da deformarsi per una lunghezza di un metro e ottanta, assorbendo tutta l'energia cinetica. Le semialisi sarebbero staccate ma la cabina avrebbe resistito, avrebbe resistito, avrebbe dovuto resistere. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Secondo i calcoli effettuati presso la Gotter Wagon Fabric, il personale a bordo sarebbe stato sottoposto per 12 centesimi di secondo ad un carico di 20 g, che si riteneva potesse essere sopportato senza danni per il ridottissimo tempo di esposizione e anche grazie ad una opportuna disposizione dei sedili. Non risulta invece considerata l'ipotesi che si accendesse solo uno dei razzi, eventualità che avrebbe sottoposto l'alliante ad una spinta asimmetrica comunque insufficiente a frenarne la caduta. In pratica SPLAT! Circa il grado di avanzamento raggiunto dallo sviluppo esistono notizie contrastante. Quello della Gotter Wagon Fabric e del DFS, come pure agli alliantisti della Luftwaffe, furono risparmiate le enormi sollecitazioni psichiche che tale modalità operativa avrebbe comportato. Cioè, decollo, cabrata, volo di crociera a 300 km orari, planata con sgancio dei pulsoriattori, inizio della picchiata con estrazione del paracadute freno ad una velocità di 260 km orari, spiegamento del paracadute freno, estrazione del pattino d'atterraggio e del peso d'anticipo, velocità a 90 km orari, picchiata, il peso d'anticipo tocca a terra a 10 metri di sopra il suolo con il razzo frenante che si accende, il razzo frenante ha ridotto la velocità praticamente a zero e allo stesso tempo fa ruotare l'aereo sul suo asse trasversale. Insomma, signori, se vi pare un'idea delirante non vi preoccupate, lo è. Se vi sembra una trovata geniale, tecnologicamente superiore e eccezionalmente avanzata, signori, fatevi vedere da uno bravo, ma veramente bravo. Cioè, insomma, rendiamoci conto, rendiamoci conto, signori, rendiamoci conto. L'idea, va bene, io dico, all'epoca non esistevano gli elicotteri, non era possibile un atterraggio di precisione, insomma, gli elicotteri ebbero un limitatissimo impiego bellico durante la seconda guerra mondiale, ma oggettivamente, siamo sinceri, con che testa ti viene in mente a qualcuno di studiare una cosa simile? Con che testa, dico io, come cacchio vi è venuto in mente? Cioè, io capisco la voglia di dimostrare di essere più avanti, io capisco la voglia di avercelo più lungo, più duro e più tecnologico rispetto ai barbari sovietici e ai bifolchi anglo-americani. Ma non è che ai progettisti qua puzzava la vita di finire al fronte russo e cercavano in ogni modo di evitarlo? Tipo i fratelli Horten, ma insomma, insomma, signori, c'è un'idea, c'è un'idea, ripeto, un'idea, quella di far atterrare, di far schiantare al suolo verticalmente, così, di far schiantare al suolo verticalmente un alliante frenato da retrorazzi e un paracadute con una struttura collassabile nel muso. Cioè, ma ci vogliamo rendere un attimo conto di che cazzo di stronzata è? Cioè, roba di che far contento l'ospedale Rizzoli di Bologna per i prossimi cent'anni? Cioè, insomma, signori, il campionario delle fratture garantite ai piloti e ai soldati trasportati in questo accidente di Puntlandflugzoig non è garantito, è assicurato. Cioè, insomma, signori, ripeto, rendiamoci un attimo conto. Cioè, lo sviluppo tipico della missione era più o meno questo, era più o meno questo, decollo, cabrata, planata o al traino di un aereo o con i pulsoreattori ausiliari, picchiata verticale e schianto al suolo di punta. Cioè, siamo sinceri, io voglio solo sapere il genio inverso, il genio inverso che si è studiato questa cosa. Cioè, se, insomma, siamo sinceri, se nelle democrazie occidentali o nella Russia stalinista qualcuno avesse presentato una roba simile, prima le avrebbero riso dietro, poi, se era fortunato, finiva in manicomio nelle democrazie occidentali, se era sfortunato finiva alle miniere di piombo della Vorkuta. c'è, insomma, signori, io non, c'è, insomma, signori, 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 l'idea è questa, alliante per l'atterraggio sul punto. Io non so cosa dirvi, io non so cosa dirvi. Una cosa simile, ripeto, la poteva inventare solo un tedesco. Per fortuna, come molto diplomaticamente ci dice Stefano Tanzi, non si arrivò mai a una prova sul campo o a una prova operativa con piloti e con un equipaggio, perché eufemisticamente Tanzi ci scrive che i collaudatori e gli alliantisti della Luftwaffe si risparmiarono le enormi sollecitazioni che tale modalità operativa avrebbe comportato. In pratica quei poveri disgraziati si sarebbero allegramente rotti tutte le ossa che avevano in corpo. In pratica, se questo alliante con atterraggio sul punto sarebbe entrato in servizio, sarebbe probabilmente diventato una delle migliori armi dell'arsenale alleato. Perché vi credete che i paracadutisti dentro questo alliante che si schiantava verticalmente al suolo ne sarebbero usciti benissimo? Ne sarebbero usciti bene? Cioè, voi ci credevate che una cosa simile poteva funzionare? Cioè, ripeto, se credevate che una cosa simile potesse funzionare veramente, fatevi vedere da qualcuno bravo, perché ne avete veramente bisogno, ancor più dell'ideatore di questa cavolata, non detta così com'è. Quindi, cari signori, scusate il tono, scusate le facce, io lo so, la guerra è una cosa seria, ma la guerra è anche una cosa che riesce nell'impresa di essere genialmente e incredibilmente ridicola. E quest'idea del Gota 345 per l'atterraggio sul punto, diciamo, credo che sia una delle idee più cretine veramente mai concepite nella storia delle guerre dell'umanità. Cioè, insomma, nel corso della... insomma, l'uomo si fa la guerra, gli uomini si fanno la guerra a vicenda da almeno 20.000 anni, ok? Ma io credo che sia molto difficile trovare un'idea più idiota di questa qua. Se ne trovate una più stupida, se ne trovate una meno intelligente, se ne trovate una altrettanto demenziale, vi prego, signori, fatemelo sapere. Aspetto i vostri commenti, come sempre, aspetto le vostre considerazioni, come sempre, aspetto che mi diciate qualcosa a proposito di questa simpatica teutonica trovata. Io, sinceramente, mi vergogno per loro, detta così com'è, e non credo ci sia altro da aggiungere. Quindi, cari signori, come sempre, io aspetto, ripeto, i vostri commenti per continuare a parlare di questa roba qui, ecco, e come sempre vi aspetto, vi rimando al mio prossimo video e come sempre ciao!